Ciao a tutti da Alcadave e benvenuti in un nuovo video. Allora, è da un po' che non ci vediamo, tipo una settimana più o meno. E io ho provato a mettere su un video dove io suono, però ho avuto casini con il copyright di YouTube e tutto il resto, quindi è balzato alla grande. E quindi, insomma, abbiate pietà di me e io torno a bomba con una recensione di un videogioco. Parliamo di Inversion! Ed eccoci qui a parlare di Inversion, uno shooter in terza persona alla Gears of War prodotto dalla Namco e sviluppato dai Saber Studios, che sono quelli che ci hanno regalato gran merda come Battle Los Angeles, il gioco tratto dal film, ma anche qualcosa di carino come Time Shift e Halo Combat Evolved Anniversary per Xbox. Quindi, insomma, un team di sviluppo che qualcosa di buono nella vita ha fatto, che ci prova a buttarsi con questo gioco che è tipo il fratello brutto e sfigato di Gears of War. Trama di questo gioco. Allora, futuro più o meno vicino, sì, 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 in futuro più o meno vicino veniamo invasi da questa gente chiamata Lutadores, un nome abbastanza ridicolo. arrivano dal nulla e comandano la gravità. Grazie a questo gimmick del comandare la gravità ci schiavizzano in maniera brutale e noi finiamo nella gran caccona. Se non fosse per i nostri due baldi protagonisti, David Russell e Leo Ortega, due poliziotti testosteronici, Tamugna, avete presente il trucco, insomma, che si imbarcano in un'avventura alla ricerca della figlia di Russell, che viene rapita assieme a tutti gli altri bambini. Punto. Questa è la trama. Diciamo che non c'è niente da dire, ragazzi, non c'è niente da dire. È una trama semplice, lineare, che non ti informa sui personaggi. A questo qua crepa la moglie. Il mondo gli viene portato via e lui non gliene frega niente. Ne fanno più che altro battutine su, ah ah, ne ho ammazzati cinque, ah ne ho ammazzati sette, guarda quello, ah che faccia di merda, cose così, che non ti mettono dentro la storia. Chi sono questi luttadores? Beh? Da dove arrivano? Beh? Cosa vogliono? Beh? Come fanno a comandare la gravità? Beh? Non si... nessuno ti dirà mai niente, sono tredici capitoli. Negli ultimi due iniziano a buttare dentro delle risposte, delle cose, che sono anche interessanti, ma ragazzi gli ultimi due capitoli, gli ultimi 40-45 minuti di gioco, mi date due, un contentino di risposta che, se me lo davate tipo all'inizio, io ho spronato a continuare il gioco, ma così non se ne poteva più di arrivare alla fine. Quindi, diciamo, una storia noiosa, blanda, che alla fine regala un piccolo colpo di scena, ma... chi se ne frega proprio. Come si gioca Inversion? Allora, facciamo un gioco. Avete mai giocato a Gears of War? L'avete mai visto? L'avete mai visto un amico che ci giocava? Ecco, Inversion è come, è esattamente come giocare a Gears of War. Non posso neanche star qui a dirvi il... a spiegare com'è il gameplay, come volete che sia. Ci sono dei cassettoni, delle cose buttate sul terreno di gioco in maniera casuale, tu ti ci ripari dietro, esci un po', spari ai tizi che arrivano, ti ripari, lanci una granata, spari. Non c'è niente di bello in questo gioco, di innovativo, diciamo che è come giocare a Gears of War. La cosa che cambia un po' le sorti potrebbe essere stata l'introduzione di questo Inversion, che è tipo un... vediamo se si vede nella copertina questa cosa blu che c'hanno qua dietro, che permette di controllare la gravità. Cosa vuol dire? Ogni tanto possiamo lanciare una palla di energia blu, che fa gravitare per tipo qualche secondo i nemici, noi possiamo recuperarli, lanciarli, oppure sparare mentre sono in volo, oppure una palla di gravità rossa, che appesantisce il loro peso e quindi li schiaccia. Ogni tanto verremo anche buttati in mezzo a sequenze dove ci sposteremo a gravità zero, oppure si cambieranno i piani, tipo qui c'è il terreno, qua c'è il soffitto, io vado sul soffitto e si sposta tutto. Ok, interessante, come è implementato nel videogioco come una merda, perché non cambia assolutamente niente. Il trucco della gravità da cambiare sparando i nemici è utile ogni tanto, ma al 90% delle volte neanche vivereai in mente di usarlo. Tranne che coi boss, ma proprio te lo chiede lui, cioè dice, oh sai cosa potrei fare? Potrei usare la gravità su quello, vedi che lo faccio secco, e tu fai, eh, va bene, insomma. Però di spuntare la volontà tua non ti viene da usare quella roba lì. In più ci sono le sequenze a gravità zero che fanno schifo, perché i comandi sono lenti, poco reattivi, spostarsi lì mentre c'è gente che ti spara è proprio una pena, e le sequenze dove si cambia il piano gravitazionale non cambia a niente, perché il soffitto come il piano è esattamente uguale. Quindi diciamo un gioco che è la copia spudorata come meccaniche di Gears of War. Quindi se voi avete già giocato a Gears of War, sapete cosa aspettarvi da Inversion. Ma ovviamente Gears of War è la versione bella. Cosa si può dire graficamente di Inversion? Guardate la luce che dà fastidio alla copertina. Cosa si può dire di Inversion graficamente? È un gioco che non brilla. Neanche graficamente brilla. Ha tutte delle texture molto chiare, anche un po' slavate. Sembra un gioco quasi vecchio. Le espressioni, i modelli dei personaggi, le facce, le animazioni, non sono per nulla curate. Di tipi di nemici ce ne sono tre. Non lo so. Graficamente non è che mi ha fatto schifo, ma non mi ha neanche fatto dire buondio che roba. È normale, è normale. Si gioca, tu lo guardi, ma non ti dà più o meno nulla. Quindi graficamente, che dire, ricorda molto, ovviamente, ovviamente, ricorda molto Gears of War. Però graficamente, attenzione, ricorda molto il primo Gears of War. Forse è leggermente più rifinito, ma i livelli di bellezza del secondo e del terzo dimentichiamoceli. E occhio che questo è un gioco uscito nel 2012. Quindi, ai ai ai, io dico ai ai ai. Anche graficamente, poca roba. Gli effetti particellari sono brutti, gli effetti grafici di luce pure. Non lo so, non so dirvi che cosa si possa salvare. Probabilmente niente, è mediocre. Mediocre. Come ormai avrete capito, questo gioco non brilla. In questo momento, in questo momento sì, ma di solito non brilla per pulizia dei contenuti. E anche nel sonoro... Ragazzi, non so cosa dirvi del sonoro. Il sonoro è normale. Il sonoro è normale. È doppiato tutto in inglese, è sottotitolato in italiano. Il doppiaggio a volte è un po' troppo meno drammatico, ma non fa schifo, si fa sentire. La lingua dei Lutadores, che è un inglese un po' strano, è anche divertente da sentire. Si sono un po' impegnati. Il rumore delle armi, dà davvero poca soddisfazione. Suona tutto uguale. Non c'è... Non ti dà niente, no? Cioè, tu spari con una pistola, spari con un fucile a pompa, non cambia assolutamente niente. Le musiche, allora, devo essere onesto, che il tema principale, quello che c'è nel menu di Inversion, è molto bello. Il tema principale... Scusate, mi sistemo i capelli che... Ecco qua. Il tema principale mi è piaciuto molto. Ma non me lo scaricherei, per mettermelo come suoneria, diciamo, che accompagnava bene l'azione, era un po' epico, un po' meno drammatico, ma per una storia di ricerca di una figlia scomparsa, è quello che volevamo sentire. Ogni tanto azzardano qualcosa di un po' più... un po' più elettronico, ma non ci siamo. E nei titoli di coda ti buttano un pezzo heavy metal completamente strumentale, molto trash, un po' trash moderno, la Trivium, che spacca il culo e tu ti chiedi perché durante le sei ore che dura il gioco non me lo mettevi un'altra volta, no? Devi essere bacato dentro. Quindi capite che anche il sonoro di questo gioco non è che lascia desiderare, ma non lascia proprio traccia. Boo! Boo Inversion! Boo! Allora, Multiplayer. C'è il Multiplayer. Ci sono anche una marea di opzioni nel Multiplayer. Ovviamente una più copiata dell'altra da Gears of War. Cioè non cambia niente se è il solito King of the Hill, Deathmatch, Deathmatch a squadre, le orde, quelle robe lì. Quello che manca, oh capelli brutti, quello che manca a questo gioco sapete che cos'è? La gente che ci gioca, la gente che ci gioca. Io l'ho preso, non gioco mai Multiplayer, ma ho detto vabbè, vediamo. Sono stato un'ora e un quarto nella lobby, aspettare che qualcuno mi avvicinasse. Non c'è un Gesù, non c'è un Cristo, non c'è nessuno. Un'altra cosa che mi ha infastidito in una maniera quasi, mmm, quasi ridicola, è che io questo gioco l'ho comprato principalmente per giocare assieme a mio fratello in co-op locale. Non ho neanche controllato se ci fosse o no, perché ho pensato vuoi che non c'è due personaggi contro il mondo, vuoi che non c'è la co-op locale? ovviamente ci sarà. Non c'è. Ovviamente non c'è. L'unico modo per giocare assieme a qualcuno è giocarci online a questo gioco. Non ci gioca un cazzo di nessuno, quindi la componente online, co-op, tutte le componenti sociali di questo gioco vanno a farsi benedire. Allora, parliamo di longevità. Io ammetto che ci ho impiegato molto di più di quello che avrei dovuto perché non avevo voglia di finirlo. Quindi tipo magari giocavo dieci minuti, crepavo e spegnevo perché mi infastidiva. Però facendo un rapido calcolo secondo me in cinque ore, sei ore è difficoltà più difficile lo finiamo questo gioco. Se c'è un replay value io non credo, io non credo, non penso di giocarci mai più perché mi ha proprio rotto le balle. Quindi longevità cinque, sei ore di poche, pochissime emozioni. Non credo ci sia molto da fare un commento finale su questo gioco perché è mediocre. Tutto è sotto la media. Diciamo che l'unica fortuna che ha avuto questo gioco è stato quello di uscire in un periodo dove non c'era nient'altro di interessante. È uscito a prezzo budget qua da noi che comunque 40 euro è un furto per questo gioco. Io l'ho comprato a Londra l'ho pagato 10 sterline che sono qualcosa come 12-13 euro. Per quella cifra sei ore così non dico che sono ben spesi però per passare il tempo a giocare a un videogioco che non è il classico Uncharted 1, 2, 3 che è finito 18 volte può andar bene ma 40 euro 30 euro 20 euro sono troppi. Questa è un po' una gran pataccata e a me è molto dispiaciuto perché non avevo per niente hype o aspettative però almeno speravo di divertirmici neanche quello neanche quello e c'è scritto Namco Namco così Namco cioè la gente si aspetta un livello da te cioè non è come io che faccio un gioco e dici chi se ne frega Namco vengo lì vengo lì no quindi il mio voto contrastabilissimo fatemi sapere nei commenti voi che ne pensate se vi è piaciuto se non vi è piaciuto il mio voto è un discutibile 5 questo è proprio 5 perché non mi ha fatto tanto schifo ma non mi ha detto niente ci ho giocato 6 ore l'ho finito domani me lo dimenticherò per sempre quindi è proprio 5 perché non è neanche così brutto da dire madonna ti ricordi Inversion che è brutto no è così talmente poco interessante che è chi se ne frega che è proprio un gran chi se ne frega quindi ragazzi state alla lontanissima da questo gioco stateci alla lontana come proprio di più pensate a chi volete stare lontano di più di più questo puzza più del pesce marcio ragazzi Alcadev vi saluta lasciatemi dei commenti lasciatemi dei mi piace lasciatemi dei non mi piace e iscrivetevi oh mio dio ragazzi buona giornata grazie a tutti grazie a tutti